Visto che ho già realizzato altri video sul lavorare felici, sul benessere in azienda, sto realizzando questo video proprio per condividere un'esperienza che dal mio punto di vista può essere interessante magari da esportare in altre realtà, in altre aziende. Sto realizzando un progetto per la messa a punto delle migliori pratiche commerciali da applicare nei negozi di una catena molto importante di abbigliamento sportivo. Volevo mostrarvi il luogo che è stato scelto da questa azienda per realizzare questi incontri in cui appunto insieme alle persone che lavorano nei negozi metteremo appunto delle linee guida da utilizzare a livello internazionale e adesso esco da questa stanza e vi faccio vedere il posto. Siamo in una villa, questa che vedete è la sala da pranzo, ora le persone si stanno preparando la colazione ma qui faremo un'attività di team cooking. I partecipanti saranno molto contenti perché siamo negli Stati Uniti e invece le ricette di questa attività saranno in italiano. Questo è lo spazio invece in cui faremo formazione. Qui si vede l'accesso alla parte esterna dove c'è la piscina, tra l'altro con l'acqua calda, quindi a fine giornata, adesso è inverno qui, quindi a fine giornata sarà molto gradita. Certo avremmo potuto realizzare tutto questo anche in un classico hotel nel quale ci saremmo fatti dare magari una stanza senza finestre. So che sembra una battuta ma spesso in realtà è proprio così. Invece una situazione come questa, oltre a costare meno, offre un livello di benessere che permette alle persone di stare meglio, di stare meglio anche con gli altri. E quando le persone stanno bene, si concentrano maggiormente, sono più creative e lavorano meglio. E quando le persone stanno bene, si stanno bene, si stanno bene, si stanno bene.